...o lo devo ancora pubblicare, va bene, non mi ricordo vi ho recensito uno dei bebè rosa adesso vi recensisco l'altro allora, c'erano anche altri due uno sul divanetto e un altro che invece ha i libri e i giochini però ve lo recensirò in un altro video perché come sapete ce l'ho da parte del negozio ve lo dico sempre allora, con questo bebè è rimuovibile il cappellino si può togliere il ciuccetto e sta gattonando, non è snodato poi è uscito la borraccetta, il biberon poi una pentolina per farlo mangiare tipo così tipo fate così, lo fate mangiare e fa tutto azzurro chiaro con il pastello aiuto e l'ho pagato 2,50 euro stessa cosa anche in rosa anzi, la rosa eccola qui questa qui stessa cosa c'è il ciuccetto un attimo, scusa e allora si trova anche il ciuccetto lui, sono vestiti nello stesso modo con il pannolino azzurro e la canottiera viola qui non è pittolato molto bene però non fa niente poi ha gli occhioni azzurri bellissimi ecco, ora si vede bene vabbè, il cappellino ora vi faccio vedere è pelato però si vedono tipo questi capelli se voi non volete far mangiare il cucchiaino si riesce a mettere nella bocca come vedete ho pensato al contrario che ho fatto ecco si riesce a mantenere la bocca vabbè, avete capito, no? ecco e anche il biberon perché l'ho messo pelato? si riesce a mettere in bocca anche il biberon beh, ora ci mettiamo il ciuccetto e niente, l'ho chiamato Andrea e niente, spero che questo video vi sia piaciuto se è così mettete un bel pollice in su e iscrivetevi al canale ciao a tutti ciao a tutti